L'hanno mandato via e non è che mi dà la giustificazione. Gli è dispiaciuto moltissimo ma non ho potuto fare nulla. Anzi abbiamo firmato, abbiamo fatto delle firme anche così le persone che vengono a visitare i defunti perché rimanesse ma non è stato sufficiente. Non ce l'hanno fatta a tenerlo il loro custode. A 40 anni viene dallo Sri Lanka, amato e ben voluto da tutti, da febbraio non lavora più qui. Ha vigilato sul cimitero di Altichiero per anni finché l'amministrazione non ha deciso di tagliare il servizio. Salutava e si sentiva un po' di più sicurezza perché qua purtroppo. Una persona che puliva tutti i giorni, aveva sempre la scopa in mano, è ovvio che si vede che non c'è più. Solo lei rimane ora con la sua bottega di fiori per scambiare qualche parola con i passanti, buttare l'occhio magari sulle biciclette di chi si ferma. Non si può lasciarlo abbandonato anche perché adesso che è diventato molto più grande insomma. Tutti i furti che ci sono adesso, rame, roba, forse anche per la crisi. Sono in tanti a lamentare l'assenza del custode. Alcuni mesi fa avevano rubato del rame da questa grondaia. I ladri erano entrati anche dal cantiere che costeggia il cimitero in via Querini. Hanno portato via rame, cavi di rame, hanno scardinato la cabina. Voi chiedete più sicurezza? Beh, quello sì, quello sì. Abbiamo paura, di fatti io vengo qua, c'è la signora, ci conosciamo. Chiedo e guardo se c'è sempre qualcuno perché dentro da sola non ci vado. E io ho mio figlio dentro. Grazie.